8.38, siamo appena partiti da Alto per questo nuovo viaggio nel Piemonte che cambia. Inauguriamo il primo portale regionale, il viaggio è non a caso inizia da Alto, dove inizia anche il mio primo viaggio del 2012. L'emozione è tanta, i compagni di viaggio anche, 9 tappe, 7 giorni, 8 giorni, il delirio come sempre. Seguiteci, ci vediamo più tardi.